Ieri mi hanno fatto una domanda a prima vista, innocente, mi hanno detto Ehi, tu che cosa fa a Capodanno? E io gli ho detto, non voglio pensarci, non me ne frega niente, non mi stressare Tanto siamo solo a novembre Cazzo novembre Io non so che faccio a Capodanno, più o meno così ogni anno Io non so che fare il 30 dicembre, probabilmente mi verrà in mente Io non so che faccio a Capodanno, e se me lo chiedi ancora io ti ammazzo Io non so che fare, ma sicuramente non creerò un gruppo su Whatsapp Deve parlare la rotta solo per un mese e mezzo perché nessuno mi singolerà E poi l'ultimo secondo tutti iranno, andiamo qui, andiamo lì, andiamo qui, andiamo lì E non si potrà più però dare tutte le tre salone conciliabili Grazie, ciao